La televisione dice che un alunno Coste allo Stato italiano circa 100 euro all'anno in luce e riscaldamento. Facciamo due conti, 100 euro per 8 milioni di studenti? Beh, insomma una bella cifra. Pensare che basterebbe spegnere la luce, abbassare il riscaldamento, chiudere i rubinetti e separare i rifiuti. Ad esempio, da noi è arrivato il progetto Adottona Scuola, che ci ha dotati di sensori tecnologici, i quali controllano e registrano dati per migliorare l'istituto, consumo di energia e qualità dell'aria di tutte le aule. La prof ci ha insegnato che diminuendo di un grado la temperatura in classe, i consumi si abbassano tra il 6 e il 10%. Con i soldi ricavati possiamo tinteggiare e risanare le pareti, acquistare pc e finanziare uscite scolastiche. In sostanza, con costante controllo dei consumi e una corretta preparazione, abbiamo risparmiato e imparato. Immagina una scuola dove alunni, insegnanti, amministratori e aziende collaborano raccogliendo dati, sperimentando soluzioni semplici e innovative per creare soldi. Parlo di lavoro di squadra, come nel rugby. Le capacità di tutti si uniscono per arrivare alla meta. L'unione fa la forza. Per questo abbiamo bisogno di te. In questa partita così importante, tu puoi condurci a tre mete precise. L'efficienza non è spesa, ma valore. Aiuta le altre scuole a capirlo. La collaborazione tra amministratori e imprenditori può rendere le scuole sostenibili. Falli parlare. La diffusione del modello adotta una scuola è una bella soluzione. Aiutami a farlo conoscere. I miei genitori mi hanno insegnato che quando si crede fortemente in una cosa, bisogna fare di tutto per realizzarla. Credo che la scuola del futuro debba essere sostenibile. Adotta una scuola e rendila sostenibile. Grazie per avermi ascoltata.